Mi chiamo Assunta e gestisco un locale meraviglioso, il Good News Bar. Io cucino gli ingredienti, ma anche le relazioni. Ho un cameriere, si chiama Jean Pierre, è un po' strampalato, ma ci mette tanto cuore. Certo, ogni giorno ci succede qualcosa, ma per fortuna nei momenti difficili posso contare sulla Crazy Market con i mitici Franca e Bollo. Loro sì che risolvono i problemi. Sì, sì, chiama pure quelli della Crazy Market, ma non basterà. Parola di Sololo, il capo dei sette nani cattivi. Ma capo, io non sono cattivo. Zitto Fifolo, per fortuna posso contare su Spigolo, Gruzzolo, Idolo, Scivolo e Bernoccolo. Con loro conquisterò il Good News Bar e realizzerò il mio sogno. Sì, distruggere tutte le feste. Insomma, il mio locale vi aspetta e se volete vi insegnerò la mia ricetta segreta... Per fare festa! Sì, distruggere tutte le feste.